Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video dedicato a una storia davvero dimenticata. Sto parlando di Miyuki. Miyuki è un manga di Mitsuru Adachi dei primissimi anni 80. Fu infatti pubblicato sulla rivista Shonen Big Comic dal 1980 al 1984 e successivamente raccolto in 12 volumetti. Fu anche il primo manga di Adachi ad avere una trasposizione animata, una serie di 37 episodi arrivata anche in Italia sulle reti private, ovviamente censuratissima, con dialoghi terribilmente riadattati e con diversi episodi rimasti inediti. Credo tra l'altro che sia uno degli anime più dimenticati del panorama dell'animazione giapponese in Italia. Devo dire che secondo me Miyuki non è proprio l'opera migliore di Adachi, in primo luogo perché manca completamente la componente sportiva che sarà invece presente nel successivo touch e che renderà la storia particolarmente avvincente. La trama inoltre risulta un po' frivola. Se fosse uscito ai giorni nostri sinceramente l'avrei trovato anche parecchio anacronistico. Non dimentichiamo inoltre che questa storia fu pubblicata su una rivista per ragazzi, trattasi appunto di manga shonen, termine che si contrappone a shoujo, che indica invece un genere indirizzato maggiormente a un pubblico di ragazze. Pertanto questa storia è tutta un pullulare di biancheria intima, di ragazzi che spiano le ragazze negli spogliatoi, di studenti guardoni, di scene di ragazze che fanno il bagno, di personaggi dipinti come macchiette ma che in realtà vanno considerati per ciò che sono e cioè dei pervertiti. Inoltre i personaggi li troverete molto simili se non proprio identici ai protagonisti di touch ma questa è proprio una caratteristica di adaci che solleva usare le stesse facce per più di una storia. Altra curiosità è che per la colonna sonora dell'adattamento italiano vennero utilizzate alcune canzoni dei beehive, quelle dei telefilm per intenderci. Un aspetto invece veramente divertente del manga sono le incursioni dello stesso adaci nella storia. Ogni tanto troviamo infatti delle tavole che ritraggono adaci mentre sta disegnando con l'editore alle spalle che lo bacchetta e gli fa pressione. Ho trovato questi disegni veramente spassosissimi, un modo per fare autoironia davvero ben studiato. Ma andiamo alla storia vera e propria che sono certa vi incuriosirà parecchio. Masato Wakamatsu, Tommy nell'adattamento anime italiano, è un liceale sedicenne che sta trascorrendo l'estate lavorando presso una spiaggia. Qui si sono ritrovate anche alcune sue compagne di classe tra cui la ragazza di cui è innamorato, Miyuki Kashima, Katia nell'adattamento italiano. I ragazzi si trovano per un caso fortuito a spiare le ragazze nella loro camera e sempre per un caso fortuito il pezzo inferiore del costume di Kashima finisce nella tasca di Masato. Quando Kashima lo scopre i due litigano e Masato che ha appena 16 anni non ci pensa due volte e va a cercare ragazze altrove. Viene così colpito da una bellissima ragazza di 15 anni incontrata casualmente sulla stessa spiaggia. Ne rimane letteralmente folgorato. La sera quando torna a casa ad aprirgli la porta è proprio quella ragazza che sorprendentemente è la sua sorellastra, anche lei di nome Miyuki, che aveva passato gli ultimi sei anni in Canada con il padre. I due fratellastri si ritroveranno a vivere sotto lo stesso tetto e vi lascio immaginare quante situazioni imbarazzanti abbia creato ad Aci. Da lui che si ritrova casualmente a spiare la sorellastra in bagno o mentre si cambia, a lei che gli strappa i vestiti di dosso perché li deve lavare, a lui che vede la sorella fare yoga in casa e così via. Non manca la scena in cui Masato salva la sorella che era svenuta in vasca da bagno, scena ripresa anni dopo anche in numerose altre storie come per esempio Marmalade Boy, giusto per citarne una. Miyuki frequenterà anche lo stesso liceo del fratello attirando l'attenzione di molti ragazzi come Ryuichi, drago nell'adattamento italiano. Non mancherà il professore Sbavone di educazione fisica che fa il filo alla quindicenne, così come il padre poliziotto di Kashima, anche lui un soggetto alquanto odioso che cercherà di abbordare sempre la bella Miyuki. In questa continua situazione di gag e di storielle di vita quotidiana il rapporto tra Masato e Miyuki diventa sempre più ambiguo, anche se Masato per molti anni diverrà praticamente il ragazzo di Kashima che ovviamente l'ha perdonato per l'equivoco del costume. L'aspetto secondo me più particolare di questa storia è che Masato stravede per la sorella nonostante esca di fatto con la ragazza più popolare della scuola della quale peraltro era anche innamorato, quindi è come se l'autore ci portasse per mano in una storia che si dibatte continuamente tra un amore ritenuto impossibile e un amore tutto sommato piacevole e sereno che potrebbe benissimo sfociare in un matrimonio felice. Dal canto suo anche Miyuki si mostra sempre molto gelosa e possessiva nei confronti del fratello, ovviamente tra i due scopriremo non esserci legame di sangue. Masato era nato dall'unione di suo padre con la sua prima moglie, la quale era morta quando lui era molto piccolo. Si era poi risposato con una donna che aveva già una bambina, la piccola Miyuki appunto. Di lì a poco anche la seconda moglie era morta. Masato di fatto è orfano di due madri. Masato sa che tra lui e sua sorella non ci sono legami di sangue e questo complica appunto le cose perché lui non riuscirà mai a vederle esclusivamente come una sorella. Masato per qualche tempo si chiederà sì anche la sorella è a conoscenza della questione visto che era davvero molto piccola quando sua madre era morta, ma nel corso della storia sarà evidente che anche lei ne è perfettamente conscia. Anche lei ovviamente pian piano capirà di provare nei confronti di Masato sentimenti diversi da quelli fraterni. Ora c'è da dire che l'adattamento italiano presentando dialoghi assurdi completamente modificati rimane davvero molto ambiguo. Non si capisce assolutamente la questione delle due madri. Questa situazione per la verità non viene proprio esplicitata il che rende la storia ancora più controversa di quella che è perché sembra che Tommy si innamori della sua vera sorella. Un disastro come al solito. Tra una gag e l'altra l'anime ha comunque una specie di finale. Nell'ultima puntata arriva una lettera del padre di Tommy e Miyuki. Il padre propone a Miyuki di tornare a vivere con lui in Canada. Tommy per caso trova la lettera proprio nel giorno in cui suo padre dovrebbe arrivare a Tokyo e imbarcarsi subito per le Filippine e pensa che Miyuki sia partita. In realtà Miyuki è andata solo a salutare suo padre in aeroporto e quando rientra Tommy la abbraccia affettuosamente. Nel pomeriggio si viene a sapere che l'aereo diretto nelle Filippine è precipitato. Dopo una notte insonne finalmente arriva la notizia che tutti i passeggeri si sono salvati. La serie si conclude con Tommy che contemporaneamente pensa a Katia e a Miyuki senza sapersi decidere. I soliti finali degli anime insomma. Il manga presenta invece una conclusione vera e propria. Ritroviamo infatti Masato e Miyuki a distanza di quattro anni. I due fratellastri vanno ormai all'università e vivono ancora insieme sotto lo stesso tetto. Masato dopo le superiori è stato un ronin per un anno, cioè una persona senza nessun tipo di obiettivo nella vita per poi essere ammesso all'università pubblica. Miyuki nonostante eccellesse negli sport e nello studio aveva scelto la stessa università di Masato per stargli accanto. Masato continua a uscire con Miyuki e Kashima e sembrano ancora fare coppia fissa. Quindi ci troviamo in una situazione di sostanziale immobilismo. Masato pare sempre incerto sul da farsi immaginando ora il matrimonio con Kashima, ora un futuro con la sua sorellastra quando per esempio la vede fare da babysitter a un bambino. La storia riceve la sua attesa svolta con l'arrivo in Giappone di Yuichi Sawada, un amico di infanzia di Masato che era partito per la Germania ed era diventato un famoso calciatore. È poi rientrato in Giappone per giocare nella nazionale di calcio. Yuichi viene ospitato per un certo tempo a casa Wakamatsu e così si innamora di Miyuki, proponendole di lì a poco di sposarlo. La ragazza che ormai ha perso le speranze di avere l'amore di Masato non vede alcun motivo per rifiutare la proposta. Yuichi è l'uomo perfetto, bello, gentile, famoso e chi più ne ha più ne metta. E così ci ritroviamo direttamente catapultati alla festa per il loro matrimonio. Notate che in Giappone funziona un po' diversamente e spesso è consuetudine fare prima la festa con parenti e amici e poi andare a registrare il matrimonio in municipio. Masato è profondamente turbato e a un certo punto della festa trova il coraggio di prendere pubblicamente la parola. Dice che Miyuki sarà una moglie perfetta perché è stata per lui una sorella perfetta e quindi dovrebbe essere felice per lei. Eppure in quel momento riesce a provare solo sofferenza perché il suo amico di infanzia gli sta portando via la persona più importante della sua vita. Cala il sipario su questa scena e con un piccolo salto temporale ritroviamo i vari conoscenti di Masato e Miyuki che ricevono una loro cartolina nella quale viene comunicato che i due fratellastri si sono sposati nelle Filippine e che vivono felici. Vediamo Ryuichi l'amico perennemente innamorato di Miyuki che sta pian piano facendosene una ragione mentre Miyuki Kashima per superare la delusione è partita da sola per un viaggio nell'Hokkaido e qui casualmente incontrerà Ryuichi Sawada e sembra dunque prospettarsi per i due un destino felice. Insomma dopo 12 volumetti non vediamo assolutamente l'evolversi della storia tra Miyuki e Masato, non vediamo baci tra i due non vediamo dichiarazioni niente di niente. Questa che vi mostro è l'unica tavola in cui si vede il loro matrimonio. Tutto sommato Miyuki resta comunque un'opera interessante nel panorama dei manga, una piccola chicca di cui quasi nessuno si ricorda. Spero perciò di aver fatto cosa utile nel parlarvene. Come sempre aspetto i vostri commenti ed io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!